Quale personaggio dei videogiochi è più alto, Ratchet o Rayman? Gli orecchie non contano di nessuno dei due, presumo Penso di no, ma non sono orecchie quello di Rayman, sono capelli Sono capelli, sì è vero sono capelli Sono orecchie Io ti dico, Rayman No, è più alto Ratchet di 2 cm Ma dai Provate a indovinarle anche voi È più alto, Spyro o Pac-Man? Forse Pac-Man, ti dirò perché era grosso Confermiamo Secondo che sì No, è più alto Spyro di 10 cm No È più alto, Knuckles o Tails? Secondo me, oddio Ma mamma mia, sul videogiochi era più alto Non si capisce perché Tails fluttua, no? Quindi non lo puoi dire Knuckles, dico Knuckles Confermiamo? Sì Sì, è più alto Knuckles È più alto, Bowser Jr. o Koopa? Sui videogiochi, tipo New Super Mario Bros È leggermente più alto Bowser Jr. Quindi io dico Bowser Jr. Però non ne sono sicurissimo Dico Bowser Jr. Sicuro? Sì No No No